Togliete i muri, ma letteralmente. Transferoil nasce a Colorno nel 79, si trasferisce a Sacca di Colorno. Viene costruito questo edificio nel 92, che è in parte produttivo, e poi c'è questa palazzina uffici. In pochi anni abbiamo attivato diverse filiali all'estero. A cavallo del 2015 ci siamo resi conto che questa palazzina, nel giro di poco tempo, sarebbe diventata troppo stretta. È partito quindi un lavoro di ampliamento che ha permesso di costruire questa ala nuova. Quando abbiamo deciso di ampliare la nostra sede, non ci siamo preoccupati solo di guadagnare nuovi metri quadrati, ci siamo preoccupati proprio di rivoluzionare lo spazio lavorativo di Transferoil. È stata fatta una grande attività di ricerca, andando a visitare altre aziende, anche attraverso un viaggio in California, nella zona di San Francisco. Uno degli insegnamenti che ho portato a casa da quell'esperienza, portate in Italia, nella vostra azienda, idee diverse. Togliete i muri, ma letteralmente. Rimuovete le gerarchie, mettendo le persone più a contatto, dando loro la possibilità di parlarsi e di confrontarsi. Noi abbiamo portato questo concetto. Non ci sono gerarchie, quindi non esiste la scrivania del capo. I dirigenti non hanno un loro spazio riservato, ma tutte le persone che operano all'interno di un dipartimento, che sia l'area amministrativa e l'area commerciale, collaborano tutti all'interno dello stesso spazio.